Buongiorno a tutti, sono Lucrezia Benedetti ed eccoci con un nuovo video Questo possiamo definirlo finalmente un vlog Perché oggi celebriamo i nostri spi 400 iscritti Veramente no, è uno speciale 400 iscritti Che il fatto è che io avevo deciso di fare questo speciale già qualche giorno fa Perché ho detto dall'ultimo video, ho detto tanto ora ci arriviamo ai 400 Ed il fatto è che siamo quasi ai 500 e non ci credo minimamente Infatti ho detto o aspetto ai 500 o lo faccio Però visto che mi ero messa in testa sta cosa Già avevo detto dai magari faccio ora faccio lo speciale Ho detto facciamo lo speciale 400 E sì, poi speciale 400, 500, pare una marca di qualcosa ma ok E ho deciso di parlarvi del pianoforte Sì, vi avevo già detto che volevo parlarvi di una cosa che comunque mi faceva stare bene O che interessava particolarmente la mia vita E' una cosa che fa parte di me ormai da quando avevo 8 anni Sì, non lo so, l'ho fatto dalla terza elementare E quindi niente, ho deciso di fare questa specie di vlog Che poi non è un vlog ma sì è un vlog È un vlog video Ho deciso di rendervi partecipe di un giorno È stato il giorno del mio saggio di pianoforte Abbastanza importante Perché ormai penso che sia il momento di farvi Entrare un po' nella mia vita La mia vita di tutti i giorni Amo il pianoforte Amo la musica Amo il pianoforte Devo fare il saggio Ah, bravissimo Ah, c'è questa buonetena Ma c'è questa buonetena C'è una buona Ah, sì, in effetti Siamo tipo Non so neanche la zona Cipro Cipro Siamo... A Cipro A Cipro L'umanardo E... E niente, ragà Mi devo chiedere un set Ehm... Io tocco le capelli. Ho provato per ora. Ah, regà, questi sono, sono, non potete capire che questo è da pe... Ho portato al chiaro di luna di Beethoven. E' un balzer di... E' un balzer di show bella. Sì, quello. Ci sono impegnata tantissimo, anzi, quello di Beethoven l'avevo già fatto l'anno scorso, solo che non era andata benissimo. E quindi quest'anno ho deciso di rifarla. Poi io un giorno ho pensato di far vedere un po' come suono, non so, così, le idee dei due secondi. Eravamo in questo posto bellissimo, ragazzi, era pieno di pianoforti, pianoforti ovunque. E c'era pure il mio amato pianoforte bianco. Regà, questo è il posto. Ciao, bravo. Regà, il fazzio, gli fazzio, il miglior pianoforte di questo mondo. Molto corto. E non me interessa. C'è un ragneto. No, non è Snapchat. È andato abbastanza bene. Sono venute due mie amiche. Siamo dall'altra parte di Roma, praticamente, zona Cipro. In questo posto, regà, bellissimo, bellissimo, pieno di pianoforti. E tutti i pianoforti a coda. Spero vi siano piaciuti i pezzi di video che ho fatto. Ne avevamo fatti di più, ma sì, ci sono stati un po' di problemi. Ah, poi ho detto, vabbè, l'ho fatto col telefono perché ho detto, vabbè, porto la macchinetta, no? Io tutta è convinta. Ho acceso? Regà, ho dimenticato la sim dentro al computer. Lo vedete che o sono sfigata io, ogni volta c'è un problema. Io ve lo dico, Lucrezia è mai una gioia. Lucrezia è mai una gioia tutto attaccato. Cioè, proprio due volte è mai una gioia fuori fuoco. Tutto. Lucrezia è due volte fuori fuoco, mai una gioia. Mi è piaciuto. E niente, quindi ho dovuto fare tutto col telefono. E sì. Rosicata rara. E' un proligio. Ma in realtà ho toppato. Però, regà, ora noi dovremmo tornare in zona nostra. Sì, quello è un proligio. Ma questo è un proligio. Ma stiamo affettando sta metro. Dovello arriva a Cipro per poi dirigerci a Le Puglia. Scusate, la dici tra quello in tennis più. La nostra madre è le Puglia. Quindi, regà, belli. Io ho fame. Se vi è piaciuto il video, il vlog, se si può definire vlog, perché non lo so neanche io, Lasciate 80-100 like, 80-100 like, 80-100 like, sì. Sarò contentissima. Oh, dovete schiacciarlo quel coso, eh. Non dire che guardate, che no, non lo faccio, lo faccio dopo, ma dopo entro con la camera. No, dovete proprio schiacciare il pollice. Un po' quel coso così. Quello così no. Quello così. Quello verde. Proprio la soddisfazione dopo che l'hai messo, che vi fa o blu o verde. Puh. Puh figo. E commentate, se vi è piaciuto. Condividete e ditemi qua sotto nei commenti se suonate qualche strumento, se vi fa piacere, se cantate, se fate qualcosa che riguardi la musica. Oppure ditemi qual è la vostra passione. Parlami della vostra passione e scrivete qua sotto. La passione. E niente, e grazie mille per quello che state facendo, veramente. Lo so, forse vi aspettavate qualcosa di più questi 400, ma grazie mille per tutto quanto. Tutto, 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 tutto quanto. Grazie a Giulia che mi ha fatto una fan art. Veramente, sono rimasta assolutamente colpita. È stata bravissima, io non le so fare queste cose, ragazzi. Non so disegnare neanche lo stecchino con le manine e i piedi. Grazie per tutto quello che fate con me. Qua sotto ci stanno i miei link di tutto. Vi ricordo di, per chi non avesse Telegram, fatevelo. Fatevelo. E qua sotto ci sono tutti i miei social. Facebook, Twitter, coso. Via da casa, tra un po', tutto. Ci vediamo nel prossimo video, ogni lunedì. Buon'estate. Stoschiumà. Questo ve l'ho detto anche l'altra volta. Duvorte, duvorte. Belli.